Un saluto a tutti! Nevica abbondantemente da questa mattina sull'Appennino settentrionale fino al fondo valle Emiliano e Romagnolo, raggiunto il mezzo metro di spessore oltre mille metri di quota. Il tutto viene generato dal transito di un minimo di bassa pressione sull'Italia in rapido spostamento dalle regioni prealpine verso la Toscana, il quale richiama masse di aree più umide in quota e venti freddi al suolo, specie sull'Emilia Romagna. Come risultato ecco le prime nevicate fino in città, qui siamo a Bologna con la temperatura intorno allo zero. Salendo in Appennino i paesaggi sono tipicamente invernali, dal monte Fumaiolo in provincia di Forlicesena all'Appennino Parmense nevica abbondantemente con accumuli al suolo che raggiungono già i 50 cm e cuola 1000-1200 metri. Consultate tutte le webcam italiane sul nostro sito con le nevicate previste anche nei prossimi giorni della settimana, non solo sull'Appennino Emiliano ma anche su quello centro meridionale.